Buongiorno, si lo so che manca poco le lezioni ma per una volta faccio un brevissimo inciso su un argomento che è diventato l'argomento del giorno, vale a dire lo spread. Una roba nuova, cose che non si sanno. Vedo di farvela molto veloce perché abbiamo scoperto incredibilmente che si può avere lo spread anche con Draghi al governo e quindi forse non sarà colpa di Borghi, dell'intervista di Borghi a Uno Mattina o altre cretinate che ci hanno riferito nel periodo in cui c'era il governo giallo-verde in cui ero presidente della Commissione Bilancio. quelle erano cretinate. Ve lo dicevo e adesso abbiamo la prova provata. Al governo c'è Draghi e arriva lo spread. Perché? Per un motivo molto semplice. I titoli di Stato non sono diversi da un'altra cosa. C'è la legge della domanda e la legge dell'offerta. Se la BCE è da anni, anni, il principale se non unico acquirente dei nostri titoli di Stato e la BCE smette di comprare. Ma secondo voi che cosa succede al prezzo dei titoli di Stato? Indipendentemente da chi ci sia il governo. Ci può essere Draghi, ci può essere Borghi, ci può essere Padre Pio, ci può essere Gandhi, ci può essere Roosevelt. Indipendentemente da chi è il governo. Se c'è un acquirente e questo acquirente svanisce, il prezzo del titolo di Stato scende, qualsiasi cosa possa avvenire. Prendiamoci Reuter, quindi non sto dicendo fonti strane o similari. Questo qui è Reuter che diceva il giugno del 2020, quindi come oggi, due anni fa, e c'era Conte, presidente del Consiglio, quindi non è che c'era chissà cosa, dice che la BCE, lo so che non lo vedete perché al contrario, ma ve lo racconto io, figuratevi, la BCE compra tutto il nuovo debito italiano. Quindi l'Italia metteva in vendita dei titoli di Stato e l'unico che si presentava ad acquistarli era la Banca Centrale Europea. Se in quel giorno non ci fosse stato l'unico acquirente, ma secondo voi il prezzo del titolo italiano scendeva o saliva? No, perché qua sembra che stiamo raccontando delle cose particolarmente difficili, non è che perché ho fatto una vita sui mercati finanziari e allora sono più sveglio a capire, è domanda e offerta, se c'è l'unico che lo compra. E dall'altra parte quindi evidentemente c'è una pluralità di soggetti che lo vendono, prima fra tutti il tesoro italiano, che ha bisogno di vendere i titoli di Stato per finanziarsi. Arrivano i titoli in vendita e quello che compra smette di comprare, forse scenderanno. Vi ricordate quando siamo andati al governo? Beh, quando siamo andati al governo è stato l'unico periodo negli ultimi anni, l'unico periodo in cui la Banca Centrale non ha comprato titoli, stava terminando i vecchi programmi di acquisto e non li aveva rinnovati. Risultato era l'unico periodo in cui i titoli non venivano comprati. Se noi andiamo sul sito della BCE che ricorda bene tutto, scusate, ve lo faccio vedere così magari uno ha il dubbio. Vedete questo buchino qua? Questo buchino qua, guarda caso, è dal giugno del 2018. Quindi tutti quegli istogrammi indicano acquisti della Banca Centrale, guarda caso, non ce l'ho io, è qualche giornalista coglione, eh? Diamo il nome e poi andatevi a riprendere così vediamo chi è che si deve prendere questo bel marchietto sulla fronte, che scriveva che era colpa mia se saliva lo spread quando io non avevo nessun ruolo di governo. Ero presidente di una commissione economica e adesso voi non sapete chi sono i presidenti delle commissioni economiche, questo vi dà l'idea di che rilevanza possa avere quel ruolo per lo spread. E guarda caso, la Banca Centrale non comprava. Cos'è il limite? Beh, il limite è quello che uno può valutare della possibile svalutazione di un titolo italiano nel momento stesso in cui l'eurozona si disgrega. Come suona bene. Nel nostro caso, quando eravamo al governo noi, avevamo un forte surplus commerciale, quindi anche in caso di disgregazione, più di tanto, l'eventuale lira non si sarebbe mica svalutata. Motivo per cui, nonostante tutti ci provavano in tutte le maniere, lo spread non andava mai oltre 300. Perché si valutava che... fatela proprio, diciamo, accademici, tappatevi le orecchie. La faccio molto semplice per farlo capire. Lo spread prendiamolo più o meno come un proxy di questa possibile svalutazione. Se lo spread è a 200, significa 2% di differenziale di rendimento ogni anno per 10 anni, diciamo 20%. Lo spread a 300, diciamo 3% di differenziale per 10 anni, diciamo 30%. Oltre il 30% di svalutazione dell'eventuale lira rispetto al marco tedesco non era plausibile neanche dai più aggressivi operatori, perché eravamo in surplus commerciale. Cioè esportavamo più di quanto importavamo. Adesso però quello scudo del surplus commerciale, grazie alle genialate delle sanzioni, grazie al costo del petrolio che importiamo e di questo tipo non c'è più. Quindi potenzialmente siamo più a rischio adesso rispetto a quello che eravamo nel 2018. Come si può fare per ovviare a questo problema? l'avevo detto anche tanti anni fa ed è l'unico sistema. Acquisti asimmetrici, cioè invece di fare come adesso che la Banca Centrale Europea ha comprato i titoli di tutti i paesi, quindi convergendo verso lo zero, gli spread andavano a stringersi indipendentemente dalle differenze di nazione. Bisogna fare quello che io all'epoca avevo chiamato il tutor, vale a dire la BCE deve dire, come dovrebbe fare una banca centrale normale, che non è tollerabile avere una differenza di tassi di interesse a lungo all'interno di un'area economica che vada oltre un certo livello. Diciamo 150 punti di spread, quindi 1,5% di differenza di rendimento, diciamo così. Quindi significa che se la nazione, diciamo che sia l'Olanda, se la nazione che ha il tasso di interesse più basso ce l'ha a zero e la nazione che ha il tasso di interesse è più alto, non diciamo noi, diciamo il Portogallo così spersonalizziamo, ha un interesse superiore sul decennale rispetto all'Olanda di 150 punti, quindi il suo tasso di interesse è 1,5. La Banca Centrale dice che più alti non li tollera e quindi se dovessero andare a 151 interviene a comprare solo titoli portoghesi oppure a vendere titoli olandesi che tanto ne hanno, in modo tale da riequilibrare la differenza. A questo punto il mercato se sa che la Banca Centrale interviene illimitatamente, a quel punto la gente li compra loro perché non rischiano nulla, prendo un tasso di interesse più alto e non rischio, quindi la Banca Centrale praticamente non dovrebbe nemmeno farli questi acquisti perché interverrebbero gli operatori di mercato che in un periodo di inflazione avere dei tassi di interesse per remunerare il proprio capitale credo che schifo non faccia. Dov'è il problema? Il problema è che la Germania mica vuole. Perché la Germania sta dicendo alla Banca Centrale di smettere di comprare i titoli? Beh perché c'è l'inflazione. Noi sappiamo che questa inflazione con i tassi di interesse e con lo stampare denaro non c'entra assolutamente nulla, nulla, è un'inflazione d'offerta. Ma vogliono spiegare ai tedeschi. I tedeschi vogliono che si faccia, fate qualcosa, vogliono fate qualcosa per l'inflazione e quindi i tedeschi vogliono che si smettano. di comprare i titoli e quindi che si alzino i tassi. Io penso che qualcuno al governo un po' lo sapesse questo meccanismo che stava arrivando, lo vedevo io, figurati se non lo vede lui. E quindi poteva essere molto logico dal suo punto di vista l'idea di levarsi di torno e andare a fare il Presidente della Repubblica lasciando qua qualcuno, Salvini, Meloni, Borghi o chi per esso, che si prendeva l'inevitabile aumento dello spread e l'aumento dei tassi, dopodiché con sorrisino andare a dire dovete fare le riforme o cose di questo tipo. Invece destino vuole che lo prenda lui e nonostante qualche spin di qualche giornale andando a prendere ai coglioni dei giornalisti dell'altra volta, cerca di dire sale perché è colpa del fatto che in futuro ci saranno delle elezioni e quindi vincerà qualcun altro. Penso che non lo beva neanche il mio gatto. Quindi in questo momento la situazione pessima per l'Italia è che i tedeschi vogliono che si aumentino, che la BCE smetta di comprare perché c'è l'inflazione e quindi bisogna far salire i tassi, anche se non c'entrano niente con l'inflazione. Noi avremmo bisogno di acquisti mirati al nostro paese, quindi la BCE dovrebbe dire compro solo titoli italiani, in Germania penso che è una cosa che non tollererebbero mai, mai, una cosa simile. Per cui le possibilità sono due. Due. Uno. Italia, Francia che fra un po' avranno problemi analoghi anche se la Francia ha molti meno problemi di noi adesso perché importa meno energia. Comunque altri paesi analoghi a un certo punto dicono Germania attaccati, noi abbiamo bisogno di questi acquisti e nel qualche caso potrebbe essere il Nirvana. Cioè potrebbe essere veramente quello che vi ho sempre detto che sarebbe stata l'unica soluzione per la crisi dell'Eurozona, vale a dire la Germania che prende e se ne va. Cioè solo a dirlo sento un brivido di piacere, ecco una cosa del genere. Questa è l'unica soluzione plausibile, cioè a un certo punto la BCE dice no, gli spread della periferia vanno fuori controllo, compro solo quelli e Germania attaccati e la Germania prende e va. Prima possibilità. Seconda possibilità, che ovviamente è quella che vuole la Germania e tutto l'establishment di Francoforte, è se tu ti metti a comprare i titoli della periferia, i paesi della periferia devono scrivere col sangue le riforme, cosa fanno, perché, perché si sottomettono in poche parole il MES. No. Cioè ti presto dei soldi ma tu ti impegni col sangue a fare quello che che devi fare, svendi le tue aziende, la Grecia, no? Ecco insomma giusto per dire. Se lo facesse direttamente la BCE sarebbe un po' meglio del MES per un semplice motivo che una volta comprato dalla BCE, quei titoli poi sono potenzialmente cancellabili. Comprato dal MES è un creditore esterno, cioè una roba da pazzi, no? Cioè che noi ci mettiamo a far comprare i nostri titoli da un creditore esterno che poi ci dice che cosa fare, ecco, con cui noi abbiamo un contratto, cioè il MES è la morte, no? La morte definitiva. Ma anche l'acquisto da parte della Banca Centrale ovviamente non sarebbe gratis e ci sarebbe il memorandum. Altre possibilità? Non ce ne sono. Quindi o ci teniamo questo bello spreddino oppure o acquisti asimmetrici e la Germania si incazza, oppure acquisti asimmetrici condizionati e nel qual caso memorandum, memorandum scritto. Questo è. Non c'entra Borghi, non c'entra la Lega, non c'entra nessuna delle scemenze che ci hanno detto in passato. Lo spread sale anche con Draghi, anche con padre Pio, se la Banca Centrale smette di comprare i nostri titoli. Così semplice.